Il rino verde di Suso, cioè quando lui mette il piede sulla palla, ormai il gol è fatto, da quella zolla lì, da quella zolla lì Suso fa gol su punizione sul primo palo, ci sono poche cose sicure nella vita e nel calcio, questa è una di queste, Jesus Fernandes Zaitz, 1-0 Milan, come a Cardiff il primo gol del match, avete visto Alessio Romagnoli, guardate quando alza il braccio Alessio Romagnoli, alza il braccio Alessio Romagnoli,